Come seguire l'esempio di San Francesco e la dimensione personale ed interiore di ogni azione di riforma delle istituzioni è il tema al centro delle prediche di avvento. La prima si è svolta questa mattina, realizzata da padre Raniero Cantalamessa, Cappuccino, predicatore della Casa Pontificia, alla presenza del Papa e della Curia Romana. Padre Cantalamessa ha ripercorso la storia di Francesco di Assisi ed ha notato l'importanza per tutti noi, in ogni tempo, di iniziare da dove è cominciata l'avventura spirituale di Francesco, cioè dalla conversione dall'io a Dio, dal rinnegamento di sé. E così ha detto che nascono i veri riformatori, quelli che cambiano davvero qualcosa nella Chiesa, i morti a se stessi o meglio, quelli che decidono seriamente di morire a se stessi perché si tratta di un'impresa che dura tutta la vita e anche oltre.